ciao a tutti qui dall'accademia del fantacalcio sono abel alves e in questo video ti darò due segreti cioè due consigli veramente importanti che vedo spesso che purtroppo tantissimi fanta allenatori ci cascono e sbagliano perché purtroppo queste sono cose da evitare assolutamente la prima è quella di evitare di prendere il blocco di una squadra cosa significa prendere il blocco di una squadra significa prendere facciamo l'esempio di tutti i difensori o tutti i centrocampisti di una squadra e basta invece la seconda cosa da evitare è quella di prendere tantissime scomesse tantissimi underdog cioè tantissimo giocatori potenziali campioni ma ne parliamo prima dalla prima cosa cioè del fatto che molti purtroppo prendono il blocco di una squadra e basta facciamo questo esempio qua come dicevo prima della difesa se tu prendi tutti i difensori facciamo un esempio della lazio della bologna anche della juve non potrai più giocare col calendario perché giocherai sempre con quei giocatori specifici quindi non potrai diciamo nel momento di necessità cambiare appunto ai calciatori perché avrai soltanto quelle tipologie di calciatori lì e dico la squadra e basta cosa porta questo porta che quando diciamo la squadra è in difficoltà durante la stagione perché può capitare che una juve un inter una roma possono essere in difficoltà durante la stagione per motivi non sono ambientali motivi di spogliatoio non lo sappiamo quindi è rischiosa avere la difesa ma anche il centro campo ma principalmente la difesa e i portieri di una squadra solo perché così quando la squadra è in crisi come vi dicevo prima come ti dicevo prima oppure la squadra giocherà in trasferta contro una prima in classifico giocherà comunque contro una squadra che adesso è in formissima dovrai comunque giocare con quei giocatori e questo è un errore gravissimo da evitare durante la stagione se pensiamo ai portieri allo stesso non puoi giocare con la griglia dei portieri perché quando sei un blocco dei portieri non so di una squadra facciamo l'esempio del milan sono così perché ti piace donaruma però poi non potrà giocare quel calendario quindi se donaruma non sta bene non è in forma e il milan sta perdendo tutte le partite diciamo così cosa succederà che dovrai giocare comunque con quel giocatore specifico che ti porterà dei malus perché subirai dei gol eccetera eccetera quindi la cosa da evitare assolutamente poi se diciamo ti piace molto diciamo una squadra in particolare la tua squadra del cuore mettiamo che sei tifosi del napoli per esempio e allora voglio prendere più giocatori del napoli possibile perché la mia squadra del cuore anche questo è sbagliato quindi prende il blocco anche in attacco del napoli a lungo andare non ti porterà tanti bonus come se avessi tantissimi attaccanti bomber di tantissime altre squadre perché se in quella partita specifica la squadra va male andrai male anche te parliamo ora del secondo segreto la seconda cosa quello di prendere tantissime scommesse nel fantacalcio devi essere un bravissimo scout cioè devi essere bravo a trovare i giocatori rivelazione i giocatori che ti possono veramente cambiare la stagione cioè non solo le sicurezze i top player i buoni provinciali ma devi prendere anche quelli giocatori che cercano riscatto oppure che sono nuovi e sono scommesse come appunto ti sto dicendo però attenzione a non prenderne tantissimi ne dovrai prendere facciamo un esempio su 25 slot devi prendere 4 massimo 5 giocatori scommesse perché purtroppo non tutte le scommesse vanno a buon fine cioè se tu ne prendi 5 se ti va bene 2 o 3 faranno una stagione fantastica però hai sempre la probabilità di averne 2 che invece non vanno che non giocheranno bene se tu invece prendi 10 scommesse beh è chiaro che in questo caso avrai tante scommesse che facciamo l'esempio che se 4 giocano bene comunque avrai 6 giocatori che non ti giocano che comunque non hanno fatto bene che sono sempre in panchina oppure non sono diventati giocatori importanti perciò mi raccomando questi due segreti sono importantissimi non mai prendere il blocco di una squadra in difesa principalmente e principalmente a chi importa mai prendere tutti i portieri di una squadra di una sola squadra se puoi evitare farlo subito e la seconda cosa secondo segreto è quello di non scommettere tanto nel senso di non devi prendere tantissime scommesse ne prenderai un numero giusto di che sono secondo me su 25 26 slot 3 barra 4 ok scommesse e basta se ne prendi 5 non succede niente però è meglio farne 3 4 così sei sicuro pensa che questo casomai fai così anzi fai così che è meglio meglio ancora è più semplice entrare in testa prendi uno per le parti così è più semplice da capire ok bene se ti è piaciuto questo video mi raccomando iscriviti al canale seguici perché avrai qui tantissime informazioni sul calcio calcio mercato in questo momento specifico poi visto che ci sono le aste tantissimi consigli per la vostra asta quindi mi raccomando resta qua con noi e ci vediamo al prossimo bellissimo video all'accademia del fattacalcio ciao